Signori, siamo tornati! Signori, adesso lo diciamo perché è giusto dirlo, siamo una grande squadra! Ragazzi, basta, ammettiamolo, adesso basta nascondersi dietro un dito, siamo una grande squadra, quest'anno meritiamo! E ha voglia di dire, ma giocavi con la Salernitana! Ma che Salernitana! Noi si giocava contro una squadra che era assolutamente alla nostra portata, dove non dovevi sbagliare niente e dove te non hai sbagliato nulla! Dove il primo tempo, tra l'altro, la Salernitana cercava di limitare le tue sgroppate, dove sembrava quasi bloccata la partita, se non che poi quella perla, quella perla di un giocatore che a me continuerà sempre a esaltare, che è Jack Bonaventura! Mamma, che qualità! Ma il gol rappresenta tutta la sua grande qualità, tutta la maestria che ci mette questo ragazzo nel calcio! Io questo ragazzo non finirò mai di esaltarlo, perché a me piace il bel calcio, a me piace la qualità! Ha voglia di dire che ogni tanto si nasconde? No! Lui semplicemente fa un gioco molto, molto scuro in certe frazioni di gioco e in altre se ne esce così, con un esterno a rientrare bellissimo! Che lì ci vuole una coordinazione, una dote tecnica che solo Jack Bonaventura può avere! Quindi che bel gol! Che bella Fiorentina! E poi Dujan Vlaovic, che come presentare ormai questo giocatore che è in una bolla, praticamente vive da qualche mese, ma lui non se ne frega! Lui se ne frega altamente, perché lui tanto in campo ti dimostra che grande giocatore che è! E tutto quello che verrà chi se ne frega, ok? Lo diciamo! Diciamo anche questo, chi se ne frega! Io voglio vedere vincere la Fiorentina, questa è l'unica cosa che mi interessa! E se Dujan Vlaovic mi aiuta, in questo senso, a vincere tutte le partite, ben venga Dujan Vlaovic, ben venga e forza Fiorentina! Inoltre, la lieve nota di Malè, ragazzi, questa è una storia fantastica, questo ragazzetto venuto dal Venezia, sembrava quasi, a un certo punto, non dover quasi più rientrare nei piani di quest'anno della Fiorentina e mandarlo magari a giocare, a farsi le ossa. A gennaio invece, due gol consecutivi, entra con una determinazione e un piglio giusto, e poi soprattutto è un giocatore veramente che può far comodo, perché anche lui ha grande qualità, ha grande tecnica ed è un giocatore che come entra, fa bene. Quindi, bene, ma andiamo a giocare altre persone, ma questo Malè teniamolo, perché questo fa veramente comodo. Inoltre è anche simile a Zadeh, domani vi porterò un'intervista speciale. No, che bellezza! Veramente sono euforico perché è una Fiorentina che non sbaglia. Oggi era facile anche sbagliare, guarda, ti giuro, è più facile sbagliare con le piccole squadre, con le squadre dove sai di essere superiore e dove sai di dover vincere, è più facile sbagliare con queste partite e con queste squadre, piuttosto che giocare, che ne so, contro il Milan e fagliene quattro. Invece no. Invece te sei riuscito, pur non giocando benissimo nel primo tempo, proprio perché, ripeto, la Salernitara, ragazzi, aveva chiuso la Fiorentina in un certo momento, dove ti serviva solo una prodezza come quella di Buonaventura per sbloccare la partita, perché veramente era difficile. Blaovic era chiuso, Nico Gonzalez non aveva lo spazio per le sue falcate, insomma, era una partita molto bloccata. Ribéry, tra l'altro, cercava anche di sfondare in tutti i mezzi e certe volte c'è anche riuscito, però te hai tenuto duro, ti sei messo a testa bassa a costruire, a costruire piano piano e alla fine hai trovato, sì, il gol con la pregevole azione di Buonaventura, ma poi sei riuscito a raddoppiare. C'è stato un piccolo momento di blackout, dove tra l'altro loro avevano anche accorciato le distanze, poi annullato il gol di Simi sul 2-1 e lì però si è sceso in cattedra anche Vincenzo Italiano, perché lì Vincenzo Italiano è diventato una furia, una bestia, ha ripreso tutti i suoi giocatori, si è sentito anche dalla televisione, da lì cambio di mentalità. Abbiamo avuto molto più spazio, abbiamo cominciato a attaccare costantemente, plauso ragazzi a Sottil, ragazzi facciamolo giocare, non perché oggi Caillon abbia giocato male, ma semplicemente perché crediamo in questo ragazzo, ci abbiamo investito tanto, crediamoci. Avete visto il secondo gol di Vlaovic? Che azione che si è procurato Sottil. Ha saltato netto il figlio di Delicarri, lo vogliamo sottolineare, un nostro ex praticamente, quasi nostro ex, che oggi tra l'altro faceva anche l'esordio e secondo me non ha giocato neanche malissimo. L'ha saltato netto, ha messo una bellissima palla al centro per Vlaovic, e poi questo è un rapace d'aria di rigore, ragazzi. Lo possono azzoppare quanto vogliono, ma questo non lo fermi, non lo fermi a un cavallo. E poi bellissimo, bellissima la favola di Malè. Ragazzi, bene così, diciamolo, quest'anno ci siamo anche noi. Questa maglia non è casuale, ok? Perché questa maglia ricorda gli anni in Europa. Quindi può piacere e non piacere, ecco in questo grigio. Però, ragazzi, noi dobbiamo puntare qui, ok? Dobbiamo puntare qui, abbiamo le potenzialità, smettiamo di nasconderci dietro un dito. Stiamo vincendo le partite che vanno vinte. Abbiamo avuto dei piccoli stop con Empoli e Venezia, ma la squadra è cresciuta qui, è cresciuta veramente mentalmente. Quindi forza Viola, JM, commentate voi con la vostra visione della partita, lasciate un mi garba se vi grabate il video. Ci vediamo domani per il giorno dopo. Io, ragazzi, sono veramente euforico.